Solo martedì prossimo si conoscerà il luogo preciso in cui si terrà il raduno nazifascista che catalizzerà in Lombardia da tutta Europa i più importanti partiti e movimenti di estrema destra. È il Festival Boreal organizzato da Forza Nuova che svelerà in una conferenza stampa dove si svolgerà questa tre giorni da 12 a 14 settembre con gruppi musicali naziroc e dibattiti su temi come l'omofobia, i matrimoni gay, immigrazione e gli ussoli e a cui i giornalisti potranno per la prima volta ufficialmente partecipare. Sarà l'occasione per chi è, senza pregiudizi per davvero, di parlare con noi e non solo di noi come invece capita sempre, scrivono gli organizzatori milanesi nel loro comunicato. Ma l'evento annunciato ha già messo in allarme le istituzioni milanesi, partiti e associazioni antifasciste. Secco il no del sindaco Pisapia, nessun raduno in città e provincia lo ha rassicurato il prefettore. I deputati lombardi del PD hanno chiesto al Ministero dell'Interno di vietare lo svolgimento di questa kermesse perché sono incontri in cui l'orientamento culturale fa esplicito e richiama l'intolleranza al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia e alla violenza. È fresco il ricordo dell'ultimo raduno neonazista a Milano lo scorso giugno a Rogoredo alle porte della città, un concerto per una raccolta a fondo a cui hanno partecipato non più di 500 persone. Per il Festival Boreal, annunciato per il prossimo fine settimana, potrebbero però arrivarne molte di più.